Ed eccoci qua ragazzi bentornati nei cani di Danix Torniamo con PES 2018 Allora proseguiamo la modalità di ventunmito ragazzi Siamo con la seconda partita Come vedete sono, anzi forse non lo vedete Però sono riuscito a modificare il nome del giocatore Prima c'era solo il nome, adesso ho messo l'iniziale del nome Punto il cognome, quindi completo come tutti gli altri giocatori Comunque andiamo avanti con questo campionato Per la seconda partita quindi Che non so contro chi sia Fatemi sapere ragazzi chi ha la versione per PC di PES Oggi parte della panchina, stai sempre pronto a entrare in campo Ah addirittura, vabbè Fatemi sapere come dicevo chi ha il gioco per PC Se conoscete qualche mod per avere gli stimi originali I nomi originali delle squadre Insomma un po' di cose Fatemi sapere perché ho detto Vorrei provare a mettere qualche mod Per rinominare questi qua Questi loghi delle squadre I nomi originali Insomma un po' di cose Quindi fatemi sapere se ci avete la versione per PC Quale mod Conoscete Se sono compatibili Insomma fatevi sapere un po' comunque Allora qua Lo stadio Vabbè non possiamo scegliere niente Vabbè dai lasciamo tutto così E andiamo Quindi come ho detto Chi ha la versione per PC Naturalmente Qualche mod per questo PES Per avere almeno i nomi e i loghi originali Delle squadre Perché sennò qui non si capiscono Che squadra stiamo affrontando Qui come ho detto PES non ha le licenze Rispetto a FIFA Secondo me comunque questa squadra Dove siamo noi Ho la sensazione che è il Venezia Non conosco i giocatori Quindi abbiate pazienza Se Dovrei leggere i nomi dei giocatori Della formazione Ma come ho detto Non li conosco Della Della Serie B Le formazioni Però Ah comunque non siamo In campo Siamo in panchina Vabbè Però noi non la saltiamo La partita Chiaramente Andiamo a vederla La velocizziamo Però non la saltiamo Quindi come ho detto Fatemi sapere Così almeno abbiamo i loghi Con gli stemmi E i nomi delle squadre originali Però come dicevo Secondo me È il Venezia Queste squadre che abbiamo noi Potrebbe essere Non lo so Perché il Venezia c'è quest'anno In serie B Quindi potrebbe Anche se come ho detto Non ho letto la formazione Quindi non Basterebbe leggere la formazione Se capisce Che squadra sono Ma Come ho detto Non Non c'ho voglia di leggerli Tutti i giocatori Quindi non lo so Vabbè Comunque Rispetto C'è la serie A Di PES Che sono quasi tutte Forse C'hanno Nomi e le licenze Forse la Juventus Di solito Non ha mai la licenza Li mettono Nome Black White Una cosa del genere Mi sembra che li mettevano Sempre quel nome Nei PES precedenti Era quel nome Poi non lo so Non l'ho notato Quest'anno Sinceramente Se anche quest'anno Non ha la licenza Ma mi sa di sì E' una pecca di PES Rispetto a FIFA E' questo Non mi è piaciuto Da questo punto di vista PES Rispetto a FIFA Non ho capito Perché non compra Le licenze Di campionati Delle squadre Ma E' una cosa Che proprio Non l'ho mai digerita In questo PES Rispetto a FIFA Che almeno Tutto sommato C'è li ha Tutte le licenze Quasi tutte Vabbè I campionati che ha Le licenze ci sono Con i distemi E tutto Originale Comunque Ci è fatta entrare O non ci è fatta entrare Mi sa che non ci fanno entrare Vabbè che stiamo Appena iniziando Quindi Mi sembra giusto Che partiamo Dalla panca Perché non è che Possono trovare La gente più forte Di noi A mettere a noi Quindi Ci sta pure Che iniziamo così Ma anche l'anno scorso Mi pare che eravamo Le prime partite In panchine E poi ci facevo Entrare nel secondo Attenzione Guarda che stavamo Per segnare Comunque Schippiamo sempre Il replay Che sennò Qua non lo finiamo Più E tra l'altro Ha fatto quattro tiri Contro un tiro Quell'altro Come difficoltà Siamo su Medio Come ho detto Quindi non abbiamo Alzato ancora molto Perché siamo ancora All'inizio All'inizio Blue white Non ho più pali Dei che squadra Sia Comunque Andiamo avanti Vediamo se ci fanno Entrare nel secondo Si ci hanno fatto Era bruttino Qua fanno danni Un tratto di taker Un tratto di taker Però Comunque il replay Al portiere Hanno ragione Seguro al cento Per cento Dai Passala qua Attenzione Ce l'hanno presa All'ultimo Sti salami Maledetti Dai Dai Pressate Pressate Niente Niente Vabbè Ma non possiamo Risolvere una partita In dieci secondi Perché già Ci fa entrare Nel secondo tempo E già non va bene Sta cosa Già che ci fa entrare Nel secondo E già da Da mandare al diavolo L'allenatore Abbiamo fatto un gol No vabbè Questa è persa Dai Sicura Cento per cento Vediamo se No Vabbè No No Ma comunque Sinceramente Non mi Non mi sta piacendo Il gioco Sarà abituata FIFA Ma non mi Non mi sta tirando Per niente Questo perso Come gioco Ma non lo so Preferivo FIFA Sinceramente a me Mi sarebbe piaciuto Più FIFA Di PES Però Anche se Molte volte I vecchi erano Più belli Quelli per PlayStation 2 Soprattutto Li avevo giocati Molto Di PES No niente Non ci fanno Manco a tirare La palla Pericolo Niente Sconfitta Ma ci sta Ci sta benissimo Ci sta benissimo Per la meritata Ma cosa no Ma io li avrei lanciati Dalla finestra Questi giocatori Già l'allenatore Che ci fa entrare Nel secondo tempo È da prendere E buttare Ma va bene Ci sta la sconfitta Bene così Vai Scendiamo al nono opposto Io non ho capito Che squadra Resta Green Black White Vabbè No Orange Non White Orange Secondo me Del Venezia Però Come ho detto Ha quei colori Sul nero Verde Arancione Mi sembra Quindi Vabbè Attenzione Cristiano Il miglior premio Del giocatore De la UEFA Pallone d'oro Fasullo Che non è così Non lo so Se era il pallone d'oro No Era del miglior giocatore De la UEFA Vabbè Comunque Noi non abbiamo mai vinto Un trofeo Neanche nell'altro Pesso dell'anno scorso Perché Boh Non eravamo andati avanti Se no Non mi ricordo male Mi sembra Non vorrei dire Che poi l'altro Però Adesso dobbiamo giocare Con un'altra squadra Strana Che si chiama Se il titolare Fai il vertimento Ma c'è Sta L'ha capito L'ha capito Che senza di nome E sa che non combinano Un accidenti Vai 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 alla partita Su No vabbè Non abbiamo niente da dire Noi perché Noi ci ha fatto entrare Nel secondo tempo Quelli hanno segnato Appena siamo iniziati Con il secondo tempo Quindi Non è che possiamo fare Chissà che cosa In 45 minuti Cioè Ormai La partita era Era finita Che stadio è questo Cos'è Con le case di lato Cos'è Non li ho mai potuti vedere Gli stadio Con le case A fianco Cioè Che si vedono Brutti Brutti Io ho sempre odiato Gli stadio così Sono brutti E basta Preferisco Stati chiusi Al coperto Grandi Ove Grandi Anche piccoli Ma che siano coperti E belli Con forte Non queste schifezze Che sono aperti Di Tutti Anche nel pubblico A sedere Che si vedono Le case Ma veramente Imbarazzanti Tra l'altro Ci dovrebbe essere Anche delle mod Per avere L'istate originali Su questo Pezzo Non ho mai provato A installare le mod Ma dove Cristo L'ha Ma dai Ma vai Una telefonata È fatto Allora Bisogna stare attenti Perché noi Ci stanchiamo subito La barra lì Quella verde L'ho vista Che nel Nel Prima era già sul rosso Avevamo fatto solo 45 minuti Quindi Ci stanchiamo Veramente subito Era una cosa strana Che succedeva Anche nell'altro Perso Questa cosa Che cosa abbiamo fatto Qualcuna pazia Abusive A centrocampo Una mezza rovesciata Volevamo fare Non si capiva Cosa Cos'è che volevamo fare Guardate qua Cioè Sto camminando Solo E già Stiamo a mettere Con la barra Della Stanchezza Cioè è una cosa Imbalazzante Neanche un vecchietto Cioè è una cosa Che non mi piaceva Anche nell'altro Penso Stancava subito Il giocatore In questa modalità Lo dovremmo migliorare Sicuramente Però Per renderlo più resistente Ma Cioè guardalo qua Imbalazzante Imbalazzante Il nostro giocatore Ce l'abbiamo provato Come ho detto Noi tentiamo subito Di tirare Perché se no Non ci arrivano Palloni Vediamo un po' Vediamo un po' Dobbiamo vincere Perché se no Facciamo Non schifo Dei più Dai Vai 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 Niente Muro Muro clamoroso Ah Ventivoglio Cioè Ventivoglio Non mi ricordo Che squadra Non era Però Non mi ricordo Mi sa che questo è il bar Forse Bianco Rosso Può essere Dai Ma non te la vuoi far Prendere Così Dai Rompili le gambe In modo abusivo Ma che cosa Stai combinando Qua No Qui sta iniziando Male La situazione Non mi stanno A piacere Per niente Vabbè che sono partiti Con squadrette Di Di serie B Oh E che cose Va Buttala dentro Se no qua non vincono Mai questi Va Vai 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 Che li portiamo Noi punti A casa Mica questi salami Vada 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 Avanti Proseguiamo Con il secondo Vai 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 Vabbè che adesso Sono un po' abituato A fifa Che l'abbiamo finito Poco tempo fa Però comunque Vabbè Ma sette maledetti Forte Ma che sette Chiuse come Come non mai Guarda qua Se sono chiusi Cioè Metà squadra In difesa Ma se vuol vedere Catenaccia abusivo Stanno facendo Ma veramente Saigono con molti più uomini In questo inizio Di secondo tempo Sanno che è un momento decisivo Della partita Ma noi vogliamo Chiuderla Sinceramente La partita In un modo Nell'altro La chiudiamo Non fermarti Ma dai Ma come fai Siamo non stanchi Di più Guarda la barra Sul rosso Non abbiamo voglia Neanche di camminare Più Già qualcosa Che siamo riusciti A segnare Guarda Attenzione Che non vedo niente Che stanno combinando Qua Passala subito Dai Vai Vai Ma qui siamo Non lenti Di più No Non ne abbiamo più Non ne abbiamo più Veramente Cioè La stamina Non dura niente Guarda di sapere Come Cristo Che si aumenta La La resistenza Perché è imbarazzante Cioè È imbarazzante Come cavolo Si stanca 20 minuti È già finita La stamina Di questo giocatore No no Siamo andati Di testa Ma non l'abbiamo Passata bene Qua Però siete Troppo bassi Non vorrei dirlo No vabbè Ma noi Non ne abbiamo Più Veramente Cioè Come Che resta Possibile Che siamo Quasi stanchi Ma l'è passata Troppo Presto Potevi passare Anche Pochettino Prima Eravamo Anche Giusti Non eravamo Né Che fuori Gioco Però Non ce l'ha Passata Bene Sinceramente Tutto 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 Finito Tutto Finito Tutto Finito Vai 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 Buttala Dentro 2-0 No Buttato via Nelle ortiche Va bene Questo Era un gol Clamoroso Che potremmo Chiuderla Definitivamente L'abbiamo Buttato Alle ortiche Il gol Va beh Pazienza Ma non esageriamo Adesso Siamo stanchi Siamo peggio Delle vecchie Va beh Comunque Portiamo a casa I punti Quello che conta La pagnotta No Cioè I punti Li portiamo Quindi Va bene Così Sempre 8 Ci dà Di valutazione Dai Ce ne facciamo Un'altra Vediamo Tanto Durano Veramente Poco Queste partite Quindi 5 minuti Siamo saliti Alla Settima Posto Chiaramente Dovremo Essere Primi Perché Sennò Non saliamo Nella Massima Serie Sarebbe Una cosa Brutta Da vedere Però Tra l'altro C'è Il calciomercato Vediamo Va beh Ma Ho chiesto Di Non ho chiesto Di trasferirmi Perché Non voglio Andare Subito Nelle squadre Della Massima Serie Ho voluto Apposta Partire Con Seconda Divisione Della Diciamo Della Serie B No Però Vediamo Un attimo Classifica Dei club No Però Mi fa Aspetta Classifica Dei club La mia Squadra Ah No Vabbè Questa Mettere No Io voglio La classifica Della mia Del mio Campionato Se 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 Può Seconda Divisione Classifica Fammi Vedere Allora C'è Il Tio Blu Che Non So Cosa Potrebbe Essere Ma Non Lo So Comunque Prima Possiamo Chiederla Quello Se Ci Vogliono Facciamo Una Cosa Facciamo Una Cosa Richiesta Di Trasferimento Tanto Per Per Provare Ah Non E Aperto L'ultimo Quello Vabbè Niente Niente Abbiamo Perso Tempo Minu Giocatore Allenamento Come ho Detto Qua Tiro Passaggio Di Ecco Queste Cosa Come Cavolo Le Aumento Queste Cosa Cioè Non Ho Qualità Da Migliorare Zero Cioè Sempre A Tre Siamo Come Mi Li Da A me Queste Queste Punti Per Aumentare La Resistenza La Velocità E Queste Cose Fatemelo Sapere Perché Non Lo So Comunque Ci Facciamo Un'altra Partita E Poi Ci Esalutiamo Va Facciamo Tre Partita Video Stata La Mio Squadra La Seconda Divisione Ci Siamo Noi Ci Siamo Siamo In Attacco Chiaramente Va Bene Allora Dai Era L'ultima Ah No C'è Copita Uh Ecco Crottone Vabbè Vedete Che Le Squadre Di Serie A Hanno Comunque Il Logo Il Nome Ufficiale Non Proprio Tutto Però La Maggior Parte No Giochiamo Perché Siamo Pure Titolari Ma Andiamo Andiamo Vediamo Un po Quindi Fatemi Sapere Che Per Questa Cosa Delle Modo Così Almeno Mettiamo I Nomi Normali E I Loghi Puro Ufficiali Questi Delle Squadre Almeno Capiamo Con Chi Cavolo Stiamo Giocando Così Cioè Nomi Barazzanti Dalleggere Che stanno Facendo Una Passata Di Scopa Qua Nel Campo Lascia Stare Va Che Se Gioca Uguale Controllare Controllare Zoll Che Siamo Tutti A Posto E Si Parte Via Oltre Il Crottone Pietoso In Serie A Ma Qui Potremmano Batterci Perché Noi Siamo Peggio Del Crottone Siamo Potremmo Fare Molti Gol Però Così Non Se Attenzione No Buttala Buttala Abbiamo Fatto Tutto Noi Bentivoglio Allora Non Mi Ricordo Bentivoglio Dov'è Comunque Controllero E Così Capiamo Che Cavolo Di Squadra Abbiamo Va Non Mi Ricordo Abbiate Pazienza Leva Sto Replay Ma Che Stai Ampett Vai Vattene Come Non Lo So Fine Vabbè Si è Andato Avviato Il Replay Così Comunque Abbiamo Una Zabbè Il Grosso L'abbiamo Fatto Noi Abbiamo Preso Palo Mi Sembra Si Palo Clamoroso Mi Scusi Dai Questi Sono Salami Non Me Ne Vogliono Che Ti Fai Crottone Ma Sono Pip Sinceramente Vai Con Mamma mia Se sono Scarsi Queste Sono Più Forti Le squadre Della serie B Che Del Crottone Che Era Già Due Anni In Serie B Però Di Testa Mamma mia Che Cosa Ci Abbiamo Fatto Qui Cosa Ci Abbiamo Fatto Questo È Molto Fluido Nella Azione Di Replay Comunque Riguardiamolo Vediamolo Un po' Guarda qua Prima Coglie Testa 2 a 0 E passiamo Il turno Con Il crottone Qua Eh Ah Beh Ho detto Sono Un po' Così Questi Del crottone Oh Salta Se no Ti rompo La gamba Ah Poi Quando Siamo Più Pratici Abbiamo Il nostro Giocatore Più Forte Aumentiamo Chiaramente La Difficoltà Comunque Come ho detto Stiamo Giocando A Medio Non è Che Sia Proprio Una Difficoltà Alta Però Come ho Detto Vorrei Un attimo Fare Un po' Di Partite Così Per Prendere Un po' Le Abitudini E Aumentare Il Giocatore Perché Vedete Che La Stamina I I I Già Morto E Peggio Delle Vecche Che Se Gioca Un Vecchio Corre Di Più Di Lui Attenzione Qua Doviamo Assolutamente Aumentare La Resistenza Perché E' Cosa Imbalazzante Tolta La Passateca Ero Già Morto Stavo Cacciando Via Un po' Mono Mamma Mia Mamma Mia Doppietta Arriva Il Doppiettone Il Gol Signante Oggi Due Vabbè Non eravamo Soi Vediamo Questo Gol Perché C'è Sta E L'ha Anche Toccato Il Portiere Attenzione Doppiettone Qui 3 A 0 Contro Il Crottone Penso Che Sia Solo Andata Quindi Passiamo Il Tunno Sicuramente Nella fase Di Coppa Italia Voi Vedremo Sicuramente Contro Le squadre Di Serie A Però Poco Ci Interessa Noi Intanto Cacciamo Fuori Il Grottone Vediamo Se Riusciamo Fare Qualche Altro Gol Bello Questo Passaggio Vediamo Se Tira 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 Prendilo Prendilo No Non l'ha Presa Siamo Un po' Lentini Nel Dribbling E Tutto Siamo Un po' Lenti Dunque Doppietta Nostra E 20 Voli Al Sesto Che Potremmo Fai Può La Tripleta Secondo Me Perché Giardarli Ha segnato Grazie a Noi Sennò Era 3 Gol Fatti Da Noi Ci siamo Riposati Un pochettino Adesso Che Ci siamo Fermati Nel Secondo Tempo Però Poi La Stamina Cara E Una Cosa Che Era Successa Che Nel L'anno Scorso Nel Percedente Perso Non Ho Mai Capito Come Avrò Aumentare La Resistenza Al Giocatore Avevamo Fatta Anche Molte Partite Quando Avevamo L'altro Perso Quello L'anno Scorso Ma Ancora Il Giocatore C'era Quel Problema Si Stancava Subito La Stamina La Resistenza Imbarazzante Non Ben Capito Come Cavolo Fargliela Aumentare Penso Che Erano Quelle Le Accasione Distanza In Dribbling Noi 73 Ne Hanno Fatto Di Più Più Gol Fammo E Più L'allenatore Ci Dà Fiducia Giustamente Guarda Che Erroraccio Che Hanno Fatto Me L'hanno Passata A No Tanto Entra Mesba Per Crottone Possesso Parla Molto Uguale 50-50 Tossomato Cioè Noi Comunque Siamo Una Squadra Di Serie B Il Crottone In Serie A Quest'anno Comunque Una Squadra Di Serie B Però Per Dire Abbastanza Scarsa Devo Dire Però Eh Questa Era Bella Angolata Infatti L'ho Subito Tirato Subito Tirato Ma C'è Arrivato Stranamente C'è Arrivato Vediamo Se Di Corner Addirittura Di Mezza No Vabbè L'avevamo Molto Troppo Lontani Che Abbiamo Fatto Una Rovesciata O Mezza Rovesciata Non si Capito Eravano Troppo Lontani Dai Butta Portiere Butta Butta Sto Crottone È In Difficoltà Vai Vai Presto 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 Prestate Dai 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 Che vogliamo Fare La tripletta Vediamo Se C'è La fama Comunque Vedete Che Siamo Gentissimi Ormai Non abbiamo Più Stamina Con calma Ammai Ammai Minuto Ti recupero Vabbè Finisce Così Tra Zero Va Bene Va Bene Ho Fatto Una Doppietta Ci Sta Non ho visto Cosa Non ho fatto Comunque Finito Finisce Qui I tifosi Chiedevano Una vittoria E la vittoria Arrivata Adesso c'è Grande Ottimismo Ok Ci abbiamo Fatto Una doppietta Ci da 8.0 Strano Vabbè Dai ragazzi Ci vediamo Alla prossima Benevento Che vince Alla Zebra Qua Tra Zero Vabbè Quali sono Squadra Della Serie A Vinciamo Anche Noi Tra Zero Con Il Crotone Noi Siamo Noi Ragazzi Ci vediamo Alla Prossima Infatti Mi sape Come Sempre Questa Cosa Che Vi Ho Detto Della Mod Ma Che C'è Il Ritorno C'è Non C'è Ritorno Veramente Ah Sì C'è Ritorno Con Il Vabbè Comunque Noi abbiamo vinto Tra Zebra Dai Ci vediamo Alla Prossima Come Sempre Commentate Condividete Iscrivetevi Al canale Iscrivetevi Alla Pagina Facebook Twitter Google Plus Ci vediamo Al prossimo Video Saluto a tutti Da Danix0689